I carabinieri di Trani, dopo un accurato controllo di un'autovettura sulla strada statale 16b, si hanno tratto in arresto un 37enne originario di Mesagne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo che viaggiava a velocità sostenuta è stato bloccato dai militari ed ha subito mostrato segni di nervosismo. Gli stessi, dopo la perquisizione personale, hanno rinvenuto una bottiglietta in plastica contenente metadone. Inoltre l'approfondito controllo dell'autovettura ha consentito di scoprire due pacchi occultati nell'intercapedine del parafango posteriore sinistro contenenti ben 2 kg di hashish. Il 37enne, già gravato da precedenti per spaccio di ingenti quantitativi di droga, su disposizione della procura della Repubblica di Trani è stato tratto in arresto e condotto in carcere.